salve amici un saluto da techoffers io sono francesco oggi volevo farvi vedere l'unboxing della clearview standing cover per il nuovo top di gamma di casa samsung il galaxy s9 plus l'ho acquistato da amazon la consegna è stata velocissima in due giorni lavorativi questo è come si presenta un packaging originale samsung adesso bene adesso packaging perfetto direi la qualità è ottima anche qua un sigillo di garanzia per il muovo ragazzi guardate che spettacolo io direi che la qualità eccellente, all'interno si trova un piccolo manuale di istruzioni c'è anche i cnr dopo successivamente vi farò vedere diciamo l'applicazione sul telefono in quanto adesso sto girando il video con l'S9 Plus e vi farò vedere le varie funzionalità di questa cover per il momento ci vediamo tra un po' bene adesso continuiamo con farvi vedere come come inserire il telefono all'interno della della cover originale Samsung guardate guardate abbiamo una protezione una pellicola di protezione all'interno perché in quanto una specie di di silicone all'interno per il modo da non diciamo rigare strisciare la parte in vetro posteriore adesso togliamo la pellicola come potete vedere non so se adesso si nota bene la pellicola di protezione cioè la parte interna cioè quella che va ad appoggiare sul display penso che sia in silicone in modo da non rovinare il vetro dell'S9 adesso non so se si nota che è trasparenza cioè praticamente la parte interiore è trasparente anche qua come vedete c'è una pellicola di protezione che adesso andiamo a togliere perché sennò rimane impessa l'ora e vi confondete guardate che spettacolo vicentezza brillantezza cioè è uno spettacolo questa cosa è uno spettacolo pagata su Amazon 38 euro 38 euro spedita da Amazon spedita direttamente da Amazon guardate cioè è uno spettacolo questa cosa è uno spettacolo logicamente io ho preso la Black perché il mio S9 Black e io non ho ancora mostrato le pellicole su S9 comunque adesso vi faccio vedere secondo me il modo più più semplice più per inserire ovviamente dalla parte del volume abbiamo uno spazio uno spazio maggiore uno spazio maggiore uno spazio maggiore qua dove c'è il volume il tasto BXB eh BXB eh adesso lo facciamo lo facciamo entrare così premendo la verso premendo così per un altro e dopo lo spingiamo lo spingiamo lo spingiamo verso il basso lo spingiamo lo spingiamo verso il basso tac tac ecco ecco abbiamo inserito abbiamo inserito la cover come potete vedere non so se si nota chiaramente c'è i porti vanno proprio a filo vanno a filo le display vanno a filo non danno nessun tipo di disturbo vi farò sapere meglio quando applico la pellicola la pellicola a vetro farò un altro video di recensione sulle pellicole a vetro secondo me proverò un po' di pellicola poi vi farò sapere secondo me quella migliore e niente questo come vedete è una chiusura perfetta lo spessore logicamente quella cover aumenta un po' di più dopo c'è la possibilità di metterlo io dico il cavalletto dico il cavalletto perché guardate guardate c'è la possibilità meno di volo vedetevi il vostro video perfetto è praticamente in modo che non si apra quando aprite la cover ci sono degli magneti applicati alla cover e niente con questo è tutto ve la consiglio ha un'ottima protezione esteticamente molto gradevole 38 euro non sono pochi però fidatevi li vale tutti fatta costruita con materie molto buone anche il tatto non scivola è veramente un'ottima cover la Samsung diciamo su questo accessorio diciamo che è veramente un accessorio indispensabile poi dipende poi dal lavoro che fa uno da come lo tiene comunque una persona che lavora è io la consiglio e niente con questo è tutto vi farò altri video su accessori S9 e soprattutto quello che dicevo che viene delle pellicole e quindi vi lascio il link per l'acquisto su Amazon in descrizione così potete anche sostenermi e sostenere il canale e niente un saluto da Francesco di TechOffers